Grazie. 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 Grazie a tutti. La chiamerei proprio che ne sottolinea anche una certa solennità e vediamo poi perché. Grazie. 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 reperti archeologici che coprono, pensate, quasi 3.000 anni di storia in totale. Quindi di fronte a tanta meraviglia che trovi scavando è nata anche la convinzione di voler partecipare in qualche modo alla riqualificazione, alla valorizzazione dei siti scoperti cioè la ricerca di offrire un contributo diretto alla promozione del territorio della cultura italiana e questo ha dato un impulso ad ANAS a costituire addirittura un'associazione che è una ONLUS e poi sapremo perché è importante che sia una ONLUS un'associazione proprio che si occupi di reperire fondi perché sappiamo che uno dei principali problemi è il ritrovare le risorse per poi poter dar seguito al restauro e alla valorizzazione di questi reperti e poi appunto lavorare per il restauro e la valorizzazione di uno straordinario patrimonio archeologico che abbiamo ritrovato. L'associazione, grazie al protocollo che spero andremo presto a firmare avrà un'ulteriore più importante missione che è quello di estendere questa stessa esperienza vissuta tra l'Umbria e le Marche di estenderla a tutto il territorio nazionale perché è vero che poi tra Umbria e Marche abbiamo trovato cose con un particolare significato adesso lo vedremo grazie alle nostre relatrici un particolarissimo significato ma è altrettanto vero che quando si fanno strade in qualsiasi area del nostro territorio avremo sempre la possibilità di trovare cose bellissime e cose molto importanti. Questo lo faremo tra l'altro anche con la partecipazione dei territori interessati lo faremo con la partecipazione di fondazioni, enti, società pubbliche privati, stimatori, mecenati del patrimonio storico italiano e lo faremo anche attraverso la promozione di quelle norme fiscali su cui recentemente si sono concentrati gli sforzi in particolare del Ministero della Cultura delle Arte e dell'Ambiente proprio come strumento importante di reperimento delle risorse necessarie ad arrivare a restaurare e a valorizzare i reperti ritrovati. questa associazione che si chiama Archeolog, Onlus è un'associazione che ha istituito, costituito un comitato scientifico perché non si può fare a meno di avere l'apporto, l'accompagnamento di specialisti del settore questo comitato oggi è presieduto dalla professoressa Stimoletta Stopponi che è ordinario dell'Università degli Studi di Perugia ed è composto da esperti del mondo della cultura, delle arti, della scienza istituzioni statali e regionali preposte alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali questo è quanto volevo dire che il presidente onorario di questa associazione è il professor Giovannangelo Camporeale anche lui oggi non è qui con noi per un motivo personale di salute non poteva venire anche se devo dire che in questo anno e mezzo di preparazione il professor Camporeale che è un signore maturo grande scienziato conosciuto in tutto il mondo per la sua competenza nel campo dell'archeologia ha sempre seguito passo a passo la nostra associazione dalla nascita presentandosi sempre puntualmente a tutti i nostri incontri è la prima volta che purtroppo gli è impedito di venire e allora mi ha mandato due righe che vi leggo perché credo valga la pena perché esprimono anche bene il suo spirito mi ha anche telefonato era veramente dispiaciuto di non poter essere qua con noi oggi intanto lui è il presidente come penso voi sappiate dell'Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici oltre ad essere un archeologo proprio di fama internazionale Camporeale ci dice questo onorevoli colleghi signore e signori l'incontro odierno è un'occasione propizia per richiamare l'attenzione su eventi e aspetti culturali del nostro tempo che hanno una carica altamente educativa per uscire dal generico a tenermi al concreto vorrei fare riferimento a solo i due punti dice di carattere uno generale e uno specifico quello generale i lavori condotti dall'ANAS sulla strada statale 77 Val di Chienti che è quella di cui vi parlavo prima che non l'avevo citato scusate hanno messo in luce una necropoli con tombe del VII-VI secolo a.C. del tipo accumulo tombe di cui fra poco parleremo che sono testimonianza lui dice di un'organizzazione sociale gentilizia un'organizzazione in cui le famiglie erano fatte da membri che in vita dovevano essere legati da un vincolo parentale probabilmente anche religioso ed economico distinto dal gentilizio e da morti dice che avevano il diritto di essere sepolti nella stessa area sepolcrale la chiama è un chiaro documento di storia sociale ebbene dice Camporeale in questa operazione di scavo ritorramento e studio l'impresa la chiama così l'impresa di strade ANAS e la soprintendenza archeologica hanno proceduto affiancate ciascuna delle due istituzioni per la rispettiva competenza arrivando insieme a un risultato valido sul piano scientifico informativo è importante sottolineare che nessuna delle due istituzioni parliamo quindi di soprintendenze e ANAS ha voluto scavalcare l'altra ma ciascuna ha offerto i dati di cui disponeva per mettere a punto un quadro destinato a restare nel tempo e a divenire fonte storica in questo lavoro integrato ciascuna delle due istituzioni ha affermato e potenziato il proprio ruolo il secondo punto dice Camporeale il più grande studioso di antichità vissuto alla fine dell'ottocento nei primi decenni del novecento Von Wilamowitz filologo classico nel 1925 al culmine della sua carriera e con uno straordinario bagaglio di esperienze in una conferenza tenutasi a Firenze dal titolo eloquente storia italica concludeva con un'espressione altamente significativa a suo tempo diceva storia italica accanto alla romana c'è una storia italica un'espressione che era insieme la denuncia di una storia italica che non esisteva e un auspicio che vi si provvedesse erano tempi in cui la storia dell'Italia antica era concentrata sulle vicende romane su Roma sentita come la potenza che tutto dà e nulla riceve e sulle sue guerre oggi questa situazione è superata o si sta superando grazie alla presenza sul territorio nazionale delle soprintendenze archeologiche regionali le quali con l'attività di scavo stanno mettendo in luce testimonianze dei popoli italici così si sta colmando una lacuna pertanto le scoperte di Serravalle del Chienti non sono solo una novità documentaria di rilievo come ho già detto ma sono in linea con le istanze e le direttive attuali della ricerca sul terreno a quello che ho detto conclude il professor Camporeale si potrebbe aggiungere dell'altro ma bastano questi due punti ovviamente detti da me oggi in maniera sommaria ma orientativa dice lui per dichiarare che l'opera dell'ANAS e delle soprintendenze e del MIBACT negli scavi della necropoli di Serravalle del Chienti sono volte alla salvaguardia tutta la valorizzazione di un bene culturale un'opera carica di senso civico per il lavoro che faccio dice come utente dei nuovi dati a nome della comunità scientifica che rappresento studiosi dell'Italia pre-romana in particolare e mio personale esprimo gratitudine alle istituzioni che hanno fornito un nuovo strumento di lavoro grazie all'attenzione Giovannangelo Camporeale ecco questa era quindi la lettera di Giovannangelo Camporeale io direi che diamo subito il via a questi due interventi per passare poi alla fine al contributo delle persone che ho citato prima e lo facciamo proiettandovi un filmato che in qualche modo emotivamente ci introduce nell'argomento che trattiamo questo pomeriggio grazie grazie a tutti 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 bene come avete visto tra l'altro il claim che usiamo è il futuro è passato da qui che è un po' un tutto dire e penso che sia abbastanza interessante dato che la direttrice Caterina Bon dovrà un pochino più tardi lasciarci voglio intanto chiederle di portarci il saluto del MIBACT quindi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali no 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 certo vuoi sederti ci mancherette buongiorno a tutti molto volentieri porto i saluti anche da parte dell'organo politico che mi ha incaricato di essere presente lo sarei stata comunque abbiamo lavorato gli ultimi due giorni a mettere a punto il documento che quindi è già pronto non è stato un lavoro buttato via perché di questa cosa stiamo parlando già da settimane con ANAS e il filmato ha fatto vedere bene a tutti anche a chi non è addetto ai lavori come le strade vanno costruite e invece di vedere le soprintendenze come anche una vulgata diffusa dai media come l'elemento malvagio che impedisce di fare qualunque cosa visto da quest'altro punto di vista diventa un'opportunità in cui la strada viene fatta con tutte le accortezze ma la strada consente anche con i soldi dell'ANAS come e anche con quelli eventualmente trovati con lo strumento che abbiamo disegnato insieme con l'ufficio legislativo del MIBAC di potere non solo scavare e mettere in sicurezza le cose che vengono trovate ma anche di restaurarle e valorizzarle questo offre anche una terza opportunità naturalmente quando queste ditte lavorano per fare gli scavi devono adoperare degli archeologi professionisti che sono inseriti in un sito che si chiama archeologia preventiva che è attivo già da diversi anni per cui questo consente anche di dar lavoro a giovani laureati che sul campo imparano a fare quello che è il mestiere dell'archeologo a questa terza cosa non si pensa ma serve anche a dar lavoro a persone altamente specializzate e con una selezione che viene fatta a monte dal MIBAC questo per dire che come direzione generale tecnico-amministrativa e non quindi come organo politico io sono favorevolissima a questa iniziativa che parte dall'Umbria in questo particolare caso di cui stiamo parlando oggi ma siccome le strade si fanno ovunque questo modello può poi essere adoperato anche in altri luoghi dell'Italia per far valorizzare e far conoscere anche alle persone che abitano in quei luoghi stessi parte del patrimonio di cui noi siamo come MIBAC dei meri custodi ma che appartiene a tutti noi questo è l'unico tipo di saluto che voglio dare e ringraziare i soprintendenti dell'Umbria per quello che hanno fatto e per Osino come Anas che da quello che risulta a me poi loro potranno convalidare quello che io ho saputo per sentito dire e sono sempre in imbarazzo a dire una cosa che non ho visto con i miei propri occhi ma l'ho parzialmente visto dal filmato e cioè che sono stati messi a disposizione dei capannoni dove le cose ritrovate sotto la vigilanza di entrambe le soprintendenze intendo Umbria e Marche sono stati ricoverati in sicurezza e quindi seguendo diciamo un tipo di modello che potrà essere esportato anche in altre parti d'Italia io chiuderei i miei saluti qui lasciando oltretutto sono contenta di vedere la mia conterranea Simonetta Stopponi amica di Amici Comuni Umbri tutti archeologi anche se io non lo sono io sono una una razza in via di estinzione che è quella degli storici dell'arte ma ormai siamo accoppiati in questa in questa estinzione ma dovremo sopravvivere e volevo anche anche dirvi che naturalmente siccome è difficile era stata detta in un modo leggermente sbagliato diciamo come era l'addizione di soprintendenza regionale poc'anzi ma non intendo far didattica sulle riforme del ministero perché si sono sosseguite con tanta rapidità che conviene un attimo attestarci sulla prossima che sta per arrivare altrimenti rischiamo ogni volta di fare come col quaderno ad anelli che dobbiamo aggiornarlo quindi la prossima però prevede un soprintendente unico che avrà la triplice competenza in un'area territoriale più o meno ristretta a seconda di come è stato disegnato dal decreto ministeriale di gennaio del 2016 e questa è per il momento l'ultima riforma di cui siamo tutti noi a conoscenza quindi non mi preoccupo se vengono dette in maniera leggermente scorretta perché può darsi che diventi corretta fra tre giorni fra un mese fra un anno dico una cosa leggermente fuori dal rigo ma insomma è abbastanza vero mi rendo conto che per il pubblico esterno seguire diciamo queste evoluzioni che mutano a così grande rapidità conviene quasi da un punto di vista nostro ritornare a antichità monumenti e gallerie così forse ci capiamo sul contenuto di cui stiamo parlando i quadri gallerie i monumenti gli edifici antichità le antichità e io ritorno all'edizione antica grazie buon lavoro buongiorno grazie a Caterina Bombassassina perché ha poi ha contribuito non solo a chiarire ma anche ha portato la voce diretta al massimo livello del ministero che ci interessa di più col quale vogliamo collaborare e ha detto però io l'addizione che ho dato devo dire mi è stata data dagli addetti ai lavori quindi vuol dire che c'è ancora un po' di strada da fare no dicevo che ah scusi no sei scusa no dicevo che l'addizione che ho dato mi era stata data dagli addetti ai lavori io non mi ero era eh adesso prima di parlare l'ho chiesto va bene grazie tanti no no certo che no certo che no va bene allora adesso entriamo nel vivo anche in modo breve però per capire la eh la preziosità e l'importanza dei ritrovamenti che sono stati fatti su questa Val di Chienti tra Marche e Umbria eh in questi anni eh do la parola alla professoressa Simonetta Stopponi che ho detto ordinario eh dell'Università di Perugia archeologa che ci dirà eh brevemente ehm di che cosa si tratta e poi la dottoressa Farpiccini che è da qualche tempo eh da qualche mese da archeologa sul terreno che vedevamo noi tutti i giorni ha seguito personalmente gli scavi nelle Marche e da qualche mese è stata nominata quindi le facciamo anche le congratulazioni è direttore del Museo Nazionale di archeologia delle Marche quindi di Ancona però dato che lei è stata con le mani in pasta poi ci racconterà la sua visione eh di questa avventura di questa esperienza professoressa Stopponi prego grazie buongiorno a tutti buongiorno dunque i lavori dell'asse stradale Civitanova Foligno hanno offerto una straordinaria opportunità alle indagini archeologiche sempre più impossibilitate dalla mancanza di fondi il tratto tra muccia e col fiorito ha restituito beni archeologici che attraversano come avete sentito dal dottor Perosino oltre tre millenni di storia qui vedete una mappa e vi potete rendere conto della densità dei siti rinvenuti numerosi quelli del versante marchigiano qui vedete il confine seguiti dalla dottoressa Nicoletta Frapiccini ma rilevanti anche i rinvenimenti di area umbra seguiti dalla dottoressa Laura Manca presso io esemplificherò soltanto alcuni casi non temete non tutti presso Muccia e località Giove è stato rinvenuto un insediamento con finalità artigianali produttive ed è frequentato ininterrottamente tranne una pausa dovuta a crisi finanziarie dal terzo secolo avanti Cristo all'ottavo secolo dopo Cristo sono stati rinvenuti anche raffinati e reperti alcuni dei quali attribuibili ad arredi che appartengono all'età augustea dopo una fase di contrazione dovuta alla generale crisi economica del terzo secolo dopo Cristo il sito conosce una rioccupazione collegata ad attività di tipo agricolo pastorale lo testimoniano molto bene i numerosi focolari e soprattutto i moltissimi attrezzi in ferro risalendo il corso del fiume Chienti lungo le antiche vie transumantiche che attraversavano il valico di col fiorito si giunge ad una zona che ha restituito evidenze che vanno dal terzo millennio avanti Cristo all'epoca medievale sono stati rinvenuti numerosi insediamenti siamo sull'alto piano plestino e questi insediamenti si distribuiscono dall'età del bronzo antico alla prima età del ferro e hanno offerto l'opportunità di distinguere diverse tipologie abitative con capanne a pianta ellittica circolare rettangolare e quest'ultime sono senz'altro indizio sono le più recenti ed indizio della nascita della famiglia mononucleare di queste strutture erette in materiale deperibile rimangono soltanto le buche dei pali che sostenevano gli elevati e le coperture uno dei complessi degli inizi del secondo millennio tra i più interessanti ha restituito una capanna absidata lunga circa 20 metri circondata da altre buche di pali che erano funzionali a delle strutture per attività domestiche e a ripari per animali qui potete apprezzare una ricostruzione di questa grande capanna absidata che si deve ad un'ipotesi ricostruttiva del dottor Marco Cruciani si tratta di abitazioni di tipo tribale dove convivevano tutti i membri di una famiglia patriarcale soltanto dopo abbiamo visto le capanne a pianta rettangolare nascerà la famiglia mononucleare eccezionale è la scoperta di 20 tombe a fossa distribuite a circolo intorno a due deposizioni la stessa diciamo stratigrafia orizzontale cioè la disposizione di queste tombe a fossa ci denuncia la pertinenza dei defunti ad un unico nucleo familiare si tratta di una necropoli del bronzo antico ed è una delle rarissime necropoli del bronzo antico che noi conosciamo ed è probabilmente da collegare all'insediamento che abbiamo prima visto altra rilevante scoperta è quella di cento tombe almeno che sono databili tra la fine del settimo e il sesto secolo avanti cristo e sono riconducibili come inequivocabilmente attestano le fonti antiche in particolare Plinio al vecchio al gruppo etnico degli Umbri Plestini queste scoperte sono state davvero importanti perché hanno testimoniato la presenza di tipi monumentali finora ignoti nel territorio ma soprattutto la compresenza di due diversi tipi monumentali il primo tipo si tratta delle cosiddette tombe a fossato anulare vedete qui questo terreno più scuro questo è il riempimento del fossato che circondava e delimitava il tumulo un tumulo di terra che potete apprezzare sempre in questa ipotesi ricostruttiva di Marco Cruciani il tumulo che era simbolo dello status aristocratico del defunto secondo modelli dessunti dall'area tirrenica dagli etruschi alcuni in molti casi anzi sempre oramai purtroppo il tumulo non esiste più perché agenti atmosferici e lavori agricoli li hanno distrutti e molto spesso hanno causato anche la scomparsa del scheletro è possibile grazie a dati interni e soprattutto in base ai confronti in particolare del versante adriatico supporre che il defunto fosse adagiato su un tavolato ligneo che lo separava dalla fossa con i materiali molto ricchi sono i corredi femminili con un apparato vascolare che molto spesso ripete morfologicamente e decorativamente esempi noti in ambito sabino le tombe femminili sono anche ricche di ornamenti personali qui vedete un disco di bronzo che ornava la veste un esempio di queste tombe la cosiddetta tomba della fanciulla di plestia vi verrà poi illustrata dalla dottoressa Fra Piccini vi dicevo della compresenza di due tipi funerari monumentali oltre le tombe affossato nell'altopiano plestino sono state trovate tombe a circolo a circolo lo vedete perché si tratta appunto di circoli di pietra infissi nel terreno queste tombe sono state già presentate in occasione di una mostra che si è attenuta ad Orvieto nel 2014 il circolo di pietra aveva lo scopo di delimitare l'area sepolcrale e monumentalizzare in un certo modo il tumulo stesso anche in questo caso si tratta di sepolture appartenenti alle classi elitarie una tomba è di notevole interesse e direi molto adatta alle infrastrutture si tratta di una deposizione multipla un uomo una donna e due fanciulli che ha restituito oltre al corredo vascolare e ad armi in ferro ben sei ruote di carro al momento attuale si potrebbe presentare un'ipotesi due delle ruote sono della biga dell'uomo elemento tipicamente maschile e le altre quattro potrebbero appartenere ad un calesse a quattro ruote che è tipicamente femminile in ogni caso non credo che ci sia scoperta più adatta di questa coniugare archeologia e infrastrutture spero che sia stato possibile cogliere da questa sintetica illustrazione l'importanza dei contesti riportati alla luce grazie alla collaborazione dei molti enti coinvolti si offre ora l'opportunità anche di nuovi posti di lavoro lasciatemelo dire soprattutto per i giovani archeologi come ben ha ricordato Caterina Bolva Alsassina ai quali spesso diamo una laurea senza alcuna prospettiva futura vi ringrazio grazie grazie mille alla professoressa Stopponi che ripeto è il presidente del comitato scientifico di archeolog do la parola subito alla dottoressa Frapiccini per la sua presentazione grazie buongiorno a tutti è davvero un grande piacere essere qua e presentare questa tomba della fanciulla di Plestia che è stata rinvenuta nel corso di questi scavi che ho avuto occasione di dirigere a partire dal 2011 mi fa piacere però ricordare che questa campagna di scavi che ha seguito tutto lo sviluppo dei lavori Anas lungo della quadrilatero lungo l'asse appunto col fiorito Foligno scusate sono un po' emozionata Civitanova Foligno nel tratto preciso di Muccia e col fiorito sono stati degli scavi molto impegnativi sono iniziati nel 2007 nella nostra regione nelle Marche e mi piace anche ricordare che al tempo il soprintendente era il dottor Giuliano De Marinis sotto la sua direzione sono state impartite da lui e inizialmente dalla dottoressa Mara Silvestrini tutte le indicazioni per poter tutelare questo territorio che noi sapevamo perfettamente essere assolutamente di grande interesse dal punto di vista scientifico ricordo che a Muccia c'è addirittura un'area vincolata tra le più importanti della nostra regione con rinvenimenti che risalgono al Neolitico all'età del bronzo e quindi andavamo a toccare diciamo che Anas andava a toccare un punto nevralgico e mi piace anche ricordare come questo rapporto con Anas e con i tecnici con gli ingegneri che hanno seguito questi lavori si sia nel tempo molto diciamo si sia intessuto proprio una sinergia un rapporto alla fine di grande collaborazione e di grande disponibilità ricordo l'ingegnere Simonini l'ingegnere Lomma che hanno seguito i lavori e molto importanti poi sono stati gli archeologi che hanno lavorato sul territorio la cooperativa Cora con la dottoressa Laura Casadei a cui si deve proprio il lavoro certosino di seguire tutti gli scavi di anche elaborare delle onerose molto faticose relazioni finali che ancora sono in corso come ha illustrato precedentemente la professoressa Simonetta Stopponi che ringrazio per questo quadro che lei ha dipinto davanti ai vostri occhi da par suo come avete visto però i ritrovamenti sono stati molteplici sono stati molto anche importanti da parte di chi dei sindaci dei vari comuni sul territorio anche il fatto che abbiano messo a disposizione delle strutture per poter collocare i moltissimi materiali che sono emersi da questo territorio e i risultati scientifici sono stati sono ancora da naturalmente sviscerare però alcuni di questi risultati notizie preliminari possiamo definirle erano di tale importanza da meritare di essere presentati come è stato fatto per la mostra di Orvieto ad una platea di studiosi che ne potessero già cominciare a valutare l'entità e chi vi parla li ha presentati al convegno di Cambridge del 2012 effettivamente si è riscontrata questa importanza notevolissima di alcune di queste per esempio di alcune di queste sepolture dell'età del ferro che sono veramente abbastanza eccezionali e che possono essere esemplificate nella fattispecie da questa da quest'unica tomba che siamo riusciti a restaurare la tomba le immagini che qui vedete vi danno subito un'idea non occorre penso alle colleghe archeologhe che conoscono bene come si rinvengono i manufatti specialmente ceramici ma non solo nello scavo però in particolare questi erano davvero molto molto di una ceramica di un'argilla molto poco cotta evidentemente e quindi anche estremamente fragile che si è completamente disfatta nei millenni nell'arco dei millenni abbiamo ritrovato tutti i frammenti ma ricomporre i manufatti è stato veramente una cosa straordinaria un lavoro molto certosino di grande anche responsabilità perché abbiamo raccolto grazie alla ditta che alla società che ha lavorato di archeologi di giovani archeologi come si ricordava prima una grossa opportunità di lavoro certamente questa per loro sono stati prelevati pani di terra perché non era possibile fare altrimenti e poi è stato fatto questo certosino scavo e restauro in laboratorio in parte nel nostro laboratorio di restauro in parte affidato ad una ditta che di restauratrici che si sono cimentate nella ricomposizione e hanno impiegato moltissimo tempo il lavoro è stato sponsorizzato dallo stesso comune di Serravalle di Chienti che naturalmente ringraziamo e quindi possiamo andare avanti ecco questo è un esempio di come uno dei vasi che avete visto scorrere prima nelle immagini era presente nel nostro laboratorio di restauro e come poi è stato restituito nella sua integrità è una tomba questa tomba dal corredo vascolare che presenta naturalmente siamo a colfiorito presenta inevitabili agganci e corrispondenze con le sepolture già note che provengono da quella zona e pubblicate dalla collega Ponsi Bonomi avanti e qui vedete un secondo vaso veramente ricostruito in maniera impeccabile però con un lavoro che potete ben immaginare vi mostro queste immagini perché mi sembravano davvero eloquenti guardate questa scodella insomma era veramente una specie di sfida riportarla alla sua integrità andiamo avanti qui vediamo i vasi del corredo ricomposti e restaurati alla fine riportati alla loro integrità per poter essere studiati questa sepoltura naturalmente ancora in corso di studio andiamo avanti altri vasi andiamo ancora avanti i monili invece in bronzo sono stati restaurati a cura del nostro laboratorio di restauro a cura del dottor Fabio Milazzo e anche questi hanno richiesto una buona dose di lavoro andiamo ancora avanti e vedete altri monili in base alla tipologia delle fibule presenti con arconi vestiti da elementi di osso sembrerebbe una tomba databile intorno alla metà del sesto secolo avanti Cristo tra gli inizi e la metà del sesto secolo avanti Cristo benché quei vasi in ceramica inizialmente ce l'hanno fatto presumere una datazione anche un po' più antica perché sembravano veramente di una tipologia che poteva essere precedente andiamo ancora avanti e allora dallo scavo al restauro e dal restauro alla valorizzazione forse possiamo dire non proprio a tempo di record però considerato le condizioni in cui questi materiali si trovavano sono stati recuperati nel corso dello scavo forse insomma i tempi sono stati anche abbastanza veloci per questa sepoltura e nella notte tra il 2 e il 3 luglio in occasione della festa dei musei abbiamo pensato di esporre finalmente questa unica sepoltura che siamo riusciti a restaurare grazie all'impegno di molti e anche al finanziamento che abbiamo ricevuto quindi è auspicabile di sepolture in queste condizioni purtroppo ne abbiamo molte altre e non solo di questo nucleo di tombe ma anche di altri contesti prima avete visto il magnifico contesto di Muccia con un escursus cronologico davvero straordinario abbiamo rinvenuto dei materiali molto molto interessanti che appartengono ad epoche completamente diverse e l'auspicio è di poter dare a tutti questi materiali una visibilità e quindi di poter dare anche un senso a tutto il grande lavoro che abbiamo fatto finora per conservarli per sottrarli alla distruzione e quindi veramente è importante ora il passo successivo che però si divide in due momenti appunto quello che sarà molto costoso naturalmente del restauro e poi la conclusione che tutti ospichiamo che è quella della valorizzazione grazie per l'attenzione bene ci avviamo alla conclusione volevo sentire un attimo un commento del superintendente archeologico delle Marche dottor Pagano che è anche componente del comitato scientifico di archeologo vorrei ricordare che la missione di archeologo è proprio questa da un lato c'è ANAS che fa le strade le manutiene e lo fa per modernizzare il paese e lo fa nel migliore dei modi ANAS stessa si sta evolvendo molto rapidamente negli ultimi mesi soprattutto e quindi è un'assunzione di responsabilità che è assolutamente nuova innovativa cioè è un'assunzione di responsabilità rispetto a quello che uno può incontrare quando fa dei lavori tipo industriale oggi non c'è più nessuna industria infatti che si esime da questo tipo di responsabilizzazione abbiamo tanti esempi anche di sponsorizzazione ANAS una volta fatti ritrovamenti è un nuovo strumento che è archeologo che deve lavorare congiuntamente con le autorità del settore cioè le soprintendenze e il ministero prima di tutto per reperire fondi perché senza fondi lo diceva adesso la dottoressa Frappiccini non si può fare nulla stanno nei magazzini queste cose cioè la festa dei musei del 2-3 luglio ad Ancona la si fa perché lì un piccolo comune della Val di Chienti di Serravale del Chienti ha messo di disposizione i quattrini necessari a fare quel restauro che verrà presentato quella notte quindi noi dobbiamo trovare i quattrini per restaurare e poi valorizzare per arricchire i territori da cui questi reperti arrivano arricchirlo dal punto di vista turistico arricchirlo dal punto di vista culturale questa unione è fondamentale e ci crediamo dobbiamo portarla avanti oggi è il primo seme che mettiamo da questo punto di vista l'archeologo di cantiere faccio solo questa chiosa perché se ne è parlato dovrà essere la persona che al nostro interno della nostra azienda dovrà avere quella capacità di interlocuzione forte con i soprintendenti con gli altri archeologi per arrivare a divenire più rapidamente possibile risparmiando quattrini tempi eccetera ha una soluzione che è quella di restaurare e valorizzare come obiettivo scusate se ho fatto questo intervento ma era solo per capire dove era l'annello di congiunzione prego buonasera a tutti sono particolarmente lieto di poter di questa iniziativa in cui ho creduto fin dall'inizio perché da ormai lungo tempo che lavoro in amministratore dei beni culturali sarebbe ormai impensabile perché ci ho cominciato a lavorare a vent'anni penso che adesso non sarebbe forse più possibile diciamo ho sempre ritenuto che non ci sia mai stato contrasto tra vari tipi di interesse pubblico cioè che la costruzione di opere e la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio archeologico possono essere conciliabili e possono andare diciamo di comune accordo certo è uno sforzo molto difficile è uno sforzo diciamo comune che noi prima di tutto come italiani siamo tenuti a fare perché abbiamo questo patrimonio così vasto così diffuso e così difficile anche diciamo da far comprendere e da valorizzare proprio per la sua complessità e anche per gli oneri di vario genere che questo naturalmente comporta e bisogna dire che diciamo questa questa iniziativa dell'ANAS quadrilatero è un po' una sfida perché queste infrastrutture da un lato modernizzano l'Italia però diciamo possono creare anche degli squilibri territoriali nel senso che naturalmente strade di grande scorrimento mentre portano naturalmente facilità di traffico eccetera soprattutto per le zone interne possono anche essere diciamo dei portatori di squilibri e quindi diciamo il patrimonio culturale diciamo non solo quello archeologico ma anche quello di altro genere una sua valorizzazione diciamo armonica con questa rete infrastrutturale è veramente necessaria prima di tutto per le popolazioni quindi per un riequilibrio diciamo anche della qualità della vita del turismo diciamo e insomma anche della godibilità dei nostri territori ma d'altra parte è senza dubbio necessaria noi io credo molto anche diciamo in questa immediata anche diciamo informazione che viene data diciamo di questi ritrovamenti alcuni eccezionali perché naturalmente queste due strade che hanno attraversato gli appennini sono stati uno spaccato diciamo molte diciamo a molti periodi si conoscevano assai male per esempio oltre a quello che già hanno detto i diciamo chi mi ha anteceduto ci sono per esempio questo periodo dell'antichità del Brunzo era praticamente sconosciuto in questa regione mostra delle affinità anche diciamo con la civiltà del Gaudo diciamo quindi meridionale non si sapeva che erano arrivati fino a qui altra grande infrastruttura è il collettore di Palestia diciamo che sta proprio a fianco alla Quadrilatero e che è una delle grandi opere dell'ingegneria romana i romani che avevano bonificato diciamo queste cose grazie ai ritrovamenti sappiamo che addirittura ancora nel Tardo Impero questa opera veniva riparata e quindi c'era un'attenzione diciamo per la per la bonifica naturalmente è una sfida molto 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 grave noi come soprintendenti ci troviamo a gestire sempre più difficilmente questo patrimonio ma anche perché si è accumulato adesso si scava molto di meno con scavi programmatici e forse per certi aspetti è un male perché si fa meno programmazione ma comunque c'è una massa di materiale che comunque viene da questi lavori che va conservata prima di tutto per trasmettere cose ma anche valorizzata e se voi pensate per esempio che come Umbria e Marche noi abbiamo di questi corredi che voi avete visto ne abbiamo molte migliaia cioè diciamo alcuni addirittura recuperati nel 1924 nei magazzini cioè io la prima cosa che ho affrontato è risistemare questi magazzini in modo che queste cose siano conservate al meglio però è molto chiaro che è una sfida diciamo è una sfida per noi è una sfida comune diciamo è una sfida i migliori custodi del patrimonio culturale sono i cittadini stessi i cittadini ci credono diciamo nel loro patrimonio se lo considerano proprio allora viene conservato e valorizzato se invece lo considerano come un corpo estraneo quindi diciamo questo connubio con l'ANAS che ha anche lei diciamo la necessità di avere degli ottimi contratti con il territorio cioè le realtà locali comuni le province le regioni sono sempre più compartecipi diciamo dello sviluppo del territorio e quindi io credo diciamo che il patrimonio culturale sia un terreno di incontro e non di scontro e quindi che veramente diciamo grazie anche all'apporto con i privati che è importante attraverso l'art bonus i privati non rischiano molto in questo perché sono un po' cauti diciamo in questo momento perché stanno un po' a guardare dice vediamo che cosa si muove quindi sta a noi diciamo funzionari pubblici diciamo politici diciamo classe politica saperli convincere diciamo a investire un qualcosa in più in questa cosa è una sfida grande è una sfida importante non so se ce la faremo perché forse lo sforzo è anche impari però diciamo credo che sia importante tentare che sia almeno diciamo avremo sicuramente dei frutti dei risultati molto importanti grazie grazie e ce la faremo sicuramente volevo ringraziare l'onorevole Flavia Nardelli Piccoli che è presidente della commissione di cultura alla camera quindi grazie siamo anche suoi ospiti e la ringraziamo davvero della sua presenza che ci onora tantissimo chiamerei a fare le conclusioni la professoressa Francesca Moraci dell'ANAS è membro del consiglio di amministrazione dell'ANAS e mentre la professoressa si avvicina al podio voglio dirvi che a tutti abbiamo fatto questo piccolo regalo che è delle belle fotografie della sepoltura della fanciulla dei Prestia che è stata illustrata dalla dottoressa Frappicini l'abbiamo fatto grazie a un primo sponsorizzazione mi sembra una sciocchezza non lo è la tipografia Colombo ci ha regalato tutto questo e lo ha fatto volontariamente perché non ha preso un euro insomma per questo è una bella collezione che ci dà soprattutto un minimo della misura delle cose che potremmo fare quindi guardiamocene con cura anche per questo quello che potremmo fare e quali sono gli obiettivi che possiamo raggiungere prego professoressa moraci grazie grazie buonasera a tutti innanzitutto porgo il saluto ovviamente del presidente del CDA di cui sono componente e ritengo comunque di avere ricevuto oggi un grande piacere perché questa è un'occasione veramente straordinaria non soltanto per i contesti preziosi che mi hanno veramente emozionato probabilmente anche per una mia formazione personale ma perché si è tentata un'operazione passatemi il termine di ricerca e di sperimentazione direi è un fatto unico nel nostro paese perché su due aspetti poco anzi è stata citata questa resistenza a costruire le infrastrutture è il modo di pensare di vedere l'archeologia la sovrintendenza diciamo che gestisce e controlla per funzione le trasformazioni che interferiscono ovviamente con il sottosuolo come due negatività usiamo questo termine e questa volta invece non c'è stato uno scontro ma c'è stato un incontro meraviglioso posso usare questi termini così che fanno parte della nostra lingua a volte abbiamo pure paura di usarli perché esprimono probabilmente sensazioni estremamente grandi ampie e noi adesso siamo talmente sotto tono che abbiamo paura quando c'è una cosa estremamente bella che ci tocca a usare un termine forte io lo voglio dire ho detto occasione straordinaria è meraviglioso perché questo la mia riflessione sarà brevissima perché davanti alla ricchezza degli interventi che mi hanno preceduto delle considerazioni e delle emersioni di questioni estremamente importanti trasversali devo dire che la cosa le quattro cose che mi sono appuntate nelle mie riflessioni ve le cito così in modo secco e anche sintetico una è la prima grande innovazione e che è il metodo di lavoro oggi noi abbiamo sperimentato un metodo di lavoro nuovo un metodo di progettazione nuova non soltanto dalla parte delle infrastrutture ma passatemi il termine anche dalla parte del territorio e poi ritornerò su questo abbiamo messo in campo che cosa un'integrazione delle funzioni tra chi progetta la committenza chi controlla ma al contempo assume il ruolo della valorizzazione della possibilità riportando alla luce di dare quel patrimonio culturale di cui tanto parliamo anche in termini di economia della conoscenza quindi metodo di lavoro integrazione un altro aspetto estremamente emotivo che le infrastrutture tirano che mettono proprio nelle condizioni questo flusso di idee ma anche questo flusso veicolare nel caso di ANAS di un viaggio in un museo che è il nostro paese quindi noi l'altra volta sentivo dei dati che addirittura in alcune aree del paese per correttezza non voglio citare le regioni erano dati Save the Children nel 50% dei nostri ragazzi al di sotto dei 14 anni non è mai entrato in un museo questo dato mi ha profondamente scosso e allora forse se troviamo dei mezzi innovativi per far capire quanto la cultura sia motrice di nuove economie di nuovi saperi di nuovo modo peraltro di gestire il progetto è anche il futuro perché le strade rappresentano anche il futuro rappresentano il movimento rappresentano la connessione rappresentano anche l'accessibilità ma in questo caso l'accessibilità a un luoghi che attraverso la costruzione delle strade vengono e possono essere vengono fuori e possono essere fruiti quindi un avvenimento estremamente importante se lo guardiamo da questo punto di vista l'altra questione l'altro punto che desidero proprio rammentare è nuovo lavoro bene l'archeologo di cantiere la modalità operativa rispetto a una scuola peraltro nazionale estremamente importante di cui abbiamo rappresentanti di cui abbiamo ricevuto anche i saluti poca ansia ad apertura del bene nuovo lavoro per nuovi archeologi ma pensate che cosa vuol dire questo che cambia possono cambiare le nicchie a cui si fa riferimento possono cambiare gli elementi a cui si fa riferimento nella creazione ovviamente di specializzazione del resto guardate la stessa Europa fa riferimento alla grande specializzazione nell'individuare filiere di cofinanziamento di progetti l'altro punto è legato ovviamente al progetto di valorizzazione del territorio poc'anzi il sovrintendente faceva un riferimento all'occasione di sviluppo che i territori toccati in questo caso dalle infrastrutture ma anche dal rinvenimento di contesti estremamente preziosi hanno l'occasione di poter pensare a strategie di sviluppo territoriali infrastrutturali turistiche che vanno oltre quindi stiamo legando a questa sperimentazione all'idea ovviamente di aver costruito un protocollo dettagliato e ringraziamo assolutamente il ministero dei beni culturali che ha molto lavorato come è stato ricordato poc'anzi e io sono convinta che a brevissimo come dire suggelleremo in termini istituzionali un grandissimo lavoro perché questo tipo di lavoro diffusamente nel nostro territorio dal nord al sud per tutto quello che sicuramente ANAS potrà potrà supportare quindi nella modalità operativa nella modalità all'atere anche di recepimento dei fondi nel modo con cui si possano offrire degli asset di sviluppo territoriali a territori che erano prima attraversati e che adesso anche attraverso la scoperta di questi patrimoni culturali sono integrati dalle infrastrutture quindi le infrastrutture non attraversano non feriscono le infrastrutture integrano ammagliano si lavora in termini di cooperazione dobbiamo pensare questa è l'occasione veramente di pensarlo ad avere un rapporto diverso con quello che è il progetto infrastrutturale del nostro paese il progetto infrastrutturale del nostro paese implica l'infrastruttura materiale implica e questo è un altro caso dimostrabile anche l'infrastrutturazione immateriale quella della nostra grande cultura grazie io chiederei però il saluto dell'onorevole Flavia Piccoli Nardelli abbiamo qui la presidente della commissione cultura la camera e non possiamo farci scappare questa occasione solo un saluto brevissimo una testimonianza per l'interesse con cui la commissione cultura segue progetti di questo tipo per strumenti come art bonus che la commissione ha cercato di incentivare e che stiamo cercando di comunicare attraverso il nostro paese perché pensiamo possano essere un rapporto costruire un rapporto virtuoso fra pubblico e privato di cui abbiamo bisogno quindi sono qui vi ho ascoltato con molta attenzione mi sembra molto interessante questo discorso di infrastrutture che aiutano un patrimonio culturale diffuso come quello italiano che di questo ha particolarmente bisogno vi ringrazio grazie onorevole bene grazie scusi ma io penso che io non ho nulla in contrario a che qualcuno intervenga personalmente per cui sì direi proprio di sì è bene sentire prego si presenta cortesemente guardi lassù che è la cosa migliore sì grazie buongiorno non so se era prevista una parte diciamo di confronto non era prevista ma tutto è possibile ecco sì allora io sono Claudia Mannino sono una membro della commissione ambiente della camera dei deputati e appunto quando abbiamo visto questo convegno diciamo con il mio collega Massimo De Rosa abbiamo voluto partecipare anche alla luce di un altro convegno che c'è stato qualche settimana fa tra infrastrutture e dissesto idrogeologico quindi come dire ci è sembrata simpatica diciamo questo collegamento ma alla luce diciamo di questa presentazione di questo studio di questa ricerca che è stata fatta che sicuramente diciamo va valorizzata perché appunto abbiamo noi un patrimonio culturale da difendere e valorizzare in tutti i vari ambiti mi permetto solo due due considerazioni che servono sempre secondo il nostro punto di vista a tenere alto il livello di attenzione il primo è quello relativo alla come dire questo rapporto tra le infrastrutture e l'archeologia perché se sicuramente questo è un caso virtuoso dico è risaputo diciamo che ci sono anche tante criticità legate al mondo infrastrutturale e in particolare esempio condivido con voi un caso credo che sia anche abbastanza noto al mondo degli archeologi quello esempio di Roma dove tanti reperti archeologici conservati nei magazzini romani in luce di un accordo con un soggetto privato sono andati diciamo un po' a delle università estere quindi in questi famosi e ben auspicati protocolli di intesa che ci devono essere ovviamente tra le sovrintendenze il ministero e i professionisti della cultura nazionale io mi auguro che ci siano sempre al primo posto le università italiane e soprattutto i nostri specializzati archeologi questa era la prima brevissima considerazione la seconda considerazione la faccio proprio in luce alla questione ANAS che ovviamente in quest'ultimo periodo sta sviluppando diciamo sta ammodernando le sue le sue le sue attività e soprattutto in ambito culturale e dalla commissione ambiente soprattutto dal punto di vista paesaggistico segnalo una criticità che è stata più volte sollevata e che mi auguro in questa fase di ammodernamento dell'ANAS venga seriamente presa in considerazione che l'impatto ambientale e che l'infrastruttura ha sui territori e sia durante le fasi di costruzione sia durante le fasi di realizzazione effettiva ci sono degli esempi virtuosi però casualmente sono sempre fuori dall'Italia di particolari attenzioni al paesaggio di un certo tipo di illuminazione se ci si ritrova ad attraversare un certo tipo di paesaggio così come un certo tipo di segnaletica un certo tipo di guardrail e particolare attenzione durante le fasi dei cantieri quindi scusate non so questo nostro intervento però sono due aspetti che secondo noi devono essere puntualmente valorizzati grazie grazie onorevole rispondo brevemente a nome di ANAS cioè è la prima volta oggi c'è un esempio mi pare molto chiaro prima abbiamo parlato di territori crediamo che le strade non si possano più fare senza la condivisione dei territori abbiamo parlato di un fatto è stato accennato dalla professoressa Moraci ha parlato più volte di progettazione l'assunzione di responsabilità è lì che va colta nella fase progettuale ed è lì che il rispetto dell'ambiente il rispetto dei territori che attraversiamo vada preso in considerazione in maniera come priorità il fatto che ANAS costituisca un'associazione che si deve solo occupare di archeologia è un grande segnale di attenzione che prima evidentemente non c'era mai stato non c'era è la prima volta che succede significa quindi trattare cioè avere una visione diversa perché se non ci fosse stata una visione diversa non sarebbe stato possibile farlo io sono presidente di archeologo sono dirigente ANAS però e lo faccio all'interno del mio ruolo e questo è quello che sia assolutamente nuovo assolutamente innovativo da guardare con interesse le criticità ci sono e probabilmente continueranno anche ad esserci in futuro perché gestire tutto è sempre un po' difficile poi i portatori di interesse sono sempre così tanti una strada significa anche tantissimi portatori di interesse voi sapete il problema è forse saper bilanciare le cose ma soprattutto dare attenzione nel momento opportuno le cose importanti e valutarle intanto partiamo di lì e quindi io la ringrazio del suo intervento perché il fatto che venga da un componente della commissione ambiente va benissimo perché prima abbiamo detto una cosa la visione di essere a 360 gradi a Trenti non vale aver fatto le cose a compartimenti stagni ci ha portato anche a delle situazioni che tutti valutiamo negativamente oggi e non positivamente per cui questo è un primo seme che ANAS vuole mettere e l'auspicio è che ci ritroveremo qui magari fra qualche tempo anche a tirare qualche conclusione magari a vedere cosa è venuto fuori da questo approccio perché anche questo non è semplice per esempio tirare su quattrini io vedo che stiamo andando in giro io l'architetto di Lorenzo che adesso non so dov'è che ringrazio che è laggiù anche lei ANAS che stiamo andando in giro tipo i predicatori su questa partita stiamo contattando i club le fondazioni stiamo contattando i territori presentiamo questa meraviglia abbiamo dei preventivi fatti dalla sovrintendenza per il restauro e andiamo scusate il termine a batter cassa perché tanto ANAS deve fare le strade quindi non può avere soldi per fare l'archeologia però può essere un bel mezzo di promozione un bel intermediario abbiamo trovato questo gli archeologi ce lo dicono cosa abbiamo trovato ci danno la misura del valore di archeologi e sovrintendenze noi ce l'abbiamo qua abbiamo anche uno strumento che questa associazione è archeologo che può occuparsene troviamo le risorse per iniziare a restaurare la nostra lista è questa cioè la lista dei beni che noi abbiamo e quelle che troviamo facendo le strade altri si occuperanno delle loro liste la cosa buona è che nel protocollo di intesa che spero andremo a finalizzare e conto molto sulla professoressa Moraci per arrivarci adesso è che se noi lo finalizziamo lì dentro il MIBACT ci ha già dato l'ok a utilizzare l'art bonus in modo diretto per restaurare questi beni perché non fa distinzione il MIBACT tra beni da restaurare il problema è chi li propone meglio chi li promuove meglio e chi trova i quattrini per farlo ok quindi non si fa una e questo penso che sia una bella cosa quindi cercherò noi stiamo promuovendo anche l'art bonus ovviamente perché le imprese con i loro soldi sappiamo che possono avere degli sconti fiscali purché quei quattrini vengano utilizzati per fare queste cose quindi spero che ci troveremo oggi noi vi abbiamo portato una cosa grazie a un piccolo tipografo e alle foto che ha fatto la dottoressa Fra Piccini insieme a Marco Cruciani tutto volontariato vi assicuro però abbiamo qua un documento noi iniziamo da questo sapete di queste tombe ce ne sono 70 pronte da restaurare e c'è quella tomba del carro e guardo la soprintendente Calandra che è bellissima cioè dobbiamo però trovare le risorse per tirar fuori quelle ruote da quel pane di terra e restituire quel o quei carri che sono passati su quella strada su quella strada quanto tempo fa oltre 2000 anni fa quindi insomma ecco questa è la nostra missione siamo qui al Parlamento anche perché crediamo che di qua nascano le idee in fondo che interessano i cittadini nascono qua noi dobbiamo essere capaci poi di portarle avanti grazie a tutti e speriamo di ritrovarci a breve per la firma di questo protocollo e poi dopo per presentare qualche restauro effettuato effettivamente buona giornata grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti